Come mai l'idea di aprire proprio nel cuore di Foggia? L'idea è proprio quella di riqualificare il centro storico di Foggia in una zona che era ormai degradata, abbandonata e la struttura era qualificante, nel senso che è molto allettante, molto vicina alla parte più importante della città dove c'è molto passeggio, quindi la nostra idea era quella di migliorare quest'area ma soprattutto il nostro obiettivo era quello di riqualificare il nostro negozio dove era posizionato nella vecchia location e di salvare un po' di posti di lavoro perché purtroppo il negozio ormai era in sofferenza da molti anni. Ecco, qui quante persone ci lavorano? Al momento ci lavorano 16 persone, 16 teste più il direttore, in totale sono 17. Ricordiamo anche l'area espositiva che avete? Abbiamo al momento due piani espositivi con un totale di 1560 metri quadri disposti nel primo piano, piano terra, la parte tecnologica, telefonia, tv, IT, informatica nel piano superiore invece tutto quello che è dedicato alla casa quindi grandi elettrodomestici, piccolo elettrodomestico, climatizzazione, casa, regalo quindi prodotti per casalinghi. Come target anche di business cosa vi proponete direttore? Sicuramente quello di duplicare o triplicare il fatturato che facevamo di là ecco perché il nostro obiettivo come le dicevo oltre di riqualificare la parte importante di Foggia la vita più importante di Foggia che è il cuore di ogni città quindi il centro storico è quello di portare a casa risultati e accontentare i nostri clienti con una location sicuramente molto più accogliente abbiamo fatto investimenti importanti in questa location perché ci crediamo. E fa bene andare dalle periferie al centro della città? Direi che forse adesso è la soluzione migliore molti ormai si spostano verso i centri commerciali invece la gente ha bisogno un po' di rivivere un po' i negozi del centro un po' la città naturale che poi sono il centro commerciale naturale della città in tutte le città quindi è un esperimento devo dire noi ci crediamo e siamo sicuri che porterà buoni frutti. Cosa vi aspettate da Foggia? Ci aspettiamo come le dicevo per noi per quanto riguarda il nostro business un aumento sicuramente significativo del fatturato ma siamo sicuri che i clienti, i nostri clienti di Foggia e anche dell'Imitrofi apprezzeranno quello di essere in una nuova location molto più bella, accogliente e vicino al centro. Grazie